Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è stato in visita al Liceo Major di Pescara per premiare gli studenti delle squadre sportive che frequentano la scuola. A salire sul parco per ricevere il premio da Malagò, gli studenti della squadra Primavera del Pescara Calcio che ha vinto il campionato Primavera 2, ragazzi allenati da Pierluigi Iervese. Poi le ginnaste della società sportiva Armonia d'Abruzzo, Ricca Paolini, Eva Gerardi, Alessia Mejarini, allenate da Germana Germani che si sono anche esibite prima della cerimonia della consegna dei gagliardetti. È stata la volta poi degli atleti della Federazione Italiana Gioco Handball, premiati anche i membri della squadra Tennis Lab, allenati da Gino D'Angelo e gli atleti delle Question Riders, allenati da Barbara De Massis. Infine, la premiazione per gli atleti della Cordigiana, allenata da Emiliano Varagnolo. Un premio speciale, atleta Major, è stato assegnato a Valentina Procaccini, 13 anni, pescarese, giovane promessa del nuoto italiano, fresca di 5 titoli nazionali ai criteri aggiovanili, a Luna del Major, approdata al circolo canottieri Aniene, di cui Malagò è presidente, per continuare gli allenamenti durante il Covid, quando a Pescara le piscine erano chiuse. Con asca, sicuramente.